Maremma è freddo, ma si accende un po' di cammino? Si accende il cammino, vai a pigliare la legna e giù nel capanno Oh via via Maremma buona, sono tutti lunghi sti pezzi, ora mi fa, mi tocca tagliarli Ma cosa fai la scelta? C'è la motosega? No, non provo la motosega, ma tu me lo potevi dire Maremma mi sei incastrato, mi sei incastrato No, all'incontro, a 45 gradi Così? Ritto, ritto, biglietto Oh, ma anche carica Eh certo Ma funziona? Ottimo Mi sembra che funzioni Ma poi è anche legno duro questo Un utensile utilissimo, questa mini motosega batteria per fare lavori di giardinaggio e manutenzione del verde Mi serviva veramente e l'ho acquistata su Amazon Ma adesso ve la racconto in questo video Avendo un cammino e un po' di piante nel giardino Avevo necessità di una mini motosega Sono andato su Amazon Ho valutato vari prodotti E alla fine Ecco qua la mia scelta Ikika Un marchio noto Ho già provato vari prodotti Della Ikika Mi sono trovato bene E questa è una mini motosega da 8 pollici Brushless Non è di quelle economiche Quindi anche il prezzo non è tra i più economici Però aveva un sacco di recensioni E tutte positive Beh, quale migliore occasione per provare un utensile che prima dell'inizio appunto della primavera Può interessare anche a molti Perché magari molti che mi seguite avete un giardino Avete necessità di andare a spezzare tronchi Ma questa non è adatta soltanto per fare lavori di giardinaggio Come potare oppure troncare appunto pezzi di legno Ma anche per piccoli lavori ad esempio di carpenteria Lavorare su assi di legno E quindi è un utensile molto versatile Inoltre lei ha la miscelazione dell'olio automatica Ha la protezione sull'impugnatura Cosa molto importante Che non tutte hanno Ha una batteria da 4A Che mi garantisce un uso prolungato Insomma un utensile molto interessante sulla carta E quindi l'ho voluto provare per portarvelo qui nel canale Adesso vedremo insieme un po' di dati tecnici di questa E poi vi racconto un po' anche come sono trovato utilizzandola un po' Perché vedete è ancora abbastanza nuova Però un pochino l'ho già iniziato a utilizzare Ho già messa in funzione E l'ho fatta provare anche a mio padre Che sicuramente la utilizzerà più di me E in conclusione vi darò le mie impressioni su questo utensile qua Beh ragazzi intanto vediamo di cosa si tratta Lei ha un motore brushless come vi ho detto Quindi senza spazzole Questo ci garantisce un utilizzo prolungato Il motore è più longevo E inoltre ci garantisce anche che duri di più nel tempo La velocità del taglio è di 7,5 metri al secondo E si usa con una mano Si impugna così comodamente La batteria è una batteria da 4A alle ioni di litio Ha un tasto per vedere la carica della batteria E si inserisce come tutte le batterie classiche a slitta Non ci sono giochi I componenti sono ben assemblati Le plastiche sono rigide E non dà una sensazione di prodotto economico Tutt'altro È veramente compatta Assemblata bene Inoltre anche il peso è abbastanza bilanciato Cioè quando la utilizziamo l'impugnatura ci fa sentire pronti padroni di questo utensile qua Ha il classico deflettore che serve per parare gli schizzi di eventuale schegge di legno Che potrebbero venire proiettate su di noi E anche un interruttore di sicurezza Questo qua che deve essere premuto insieme al grilletto durante il funzionamento Ok Inoltre vi ho detto che ha un sistema di lubrificazione completamente automatico Qua andiamo a inserire l'olio Qua all'interno Qua dietro invece vediamo il livello dell'olio Abbiamo due livelli Minimo e massimo Quindi sappiamo quanto olio abbiamo inserito La lubrificazione funziona bene La lubrificazione è del tutto automatica E quindi un utensile pratico da usare Vediamo un po' che in dotazione con lei non ci forniscono granché Vi dico la verità Abbiamo soltanto la batteria Andiamo a vedere Abbiamo il copri sega in plastica Vabbè lo inseriamo facilmente per proteggerla Eccola qua Protetta Abbiamo un manuale di istruzioni Fatto bene in italiano Nel manuale ci sono alcune informazioni utili Per esempio se dobbiamo andare a tagliare delle piante di alto fusto Beh capire come andare a fare i tagli alla base Per poi dirigere la caduta Nella direzione che vogliamo noi Quindi un manuale buono Ho apprezzato veramente Ci forniscono anche Vedete una seconda catena di ricambio Abbiamo anche la chiave a brugola Per andare a tendere la catena Come facciamo? Allentiamo questa chiave a brugola E poi tramite quest'altra Quest'altra vite qua sopra Andiamo a tenderla di più o di meno Occorre sempre controllare il livello di tensione Prima di mettere in funzione l'apparecchio Inoltre infine direi ci forniscono il carica batterie Che è un classico carica batterie Dove andiamo a inserire qua sopra Vedete la batteria E' molto piccolo Compatto Niente da dire E adesso veniamo alle considerazioni Io ho notato che fa dei tagli netti Precisi Non ho trovato difficoltà a tagliare dei tronchi Anche abbastanza grossi Ho provato un 13 cm circa La danno per 10 cm Ma vi garantisco che taglia molto di più Ho provato durante la potatura E' ottima Per andare a tagliare dei piccoli tronchi Si impugna bene E' leggera Cioè è leggera E' ben bilanciata Come dicevo E' molto pratica Anche per andare a fare questi lavori Infine scarica bene I trucioli Dalla lama Durante il funzionamento Quindi è un utensile Che mi è piaciuto Ho apprezzato Che qua ci viene anche Indicato il livello di rumorosità Anche per andare a decidere Se mettere Se usare degli ortoprotettori Come delle cuffie Per diciamo Prevenire problemi all'udito Quindi ci viene fornito il dato Bello chiaro Inoltre per la sicurezza Hanno pensato bene Di proteggere la mano Quando andiamo magari A allungarci Per andare a raggiungere Determinate zone Possiamo andare incontro Al rovi E' chiaro abbiamo i guanti Ma comunque Avere questa protezione ulteriore Non è male Il motore Non si surriscalda Durante il funzionamento Anche se La utilizziamo Per un tempo prolungato Non fa scintille Perché il motore E' di tipo brushless L'unico piccolo difetto Notato un po' scomodo Il tasto per lo sblocco Con il pollice Però comunque E' una cosa Che si riesce a utilizzare Attualmente su Amazon Si trova un prezzo Che non è tra i più bassi Comunque vi lascerò qua sotto Un link in descrizione Magari se ci saranno Delle offerte Beh consultate questo link Perché vi terrò aggiornati Su possibili variazioni E su possibili sconti Da parte appunto Della Ikika Per questo strumento Adesso stiamo andando Incontro alla stagione Dove questi utensili Vengono acquistati Per fare la manutenzione Del verde E quindi Può darsi che ci sia Anche qualche sconto Bene Io spero che questo video Vi sia sembrato utile E ragazzi Iscrivetevi al canale In questo canale Parliamo di tecnologia Ma non solo Anche di utensili Che acquisto Per uso personale Per il fai da te O comunque per piccoli lavori Domestici Che mi capita Come penso Capiti a tanti di voi Di fare all'interno Della abitazione Io vi ringrazio D'attenzione Ci vediamo con nuovi video Alla prossima Ciao